Resta il gelo tra il Partito Democratico e il governatore della Puglia, Nicchi Vendola, sulla composizione della nuova giunta. L'incontro tra le parti, che in un primo momento si sarebbe dovuto tenere oggi, sarà quasi sicuramente rimandato a domani. Il PD, fortemente contrariato per il metodo utilizzato al presidente Vendola, si riserva di dire la sua dopo aver riunito il gruppo consigliare la direzione regionale. Nel frattempo però gli assessori nominati, Antonio De Caro e Rosa Stanisci, hanno declinato l'invito a far parte della giunta. Così come lo stesso Guglielmo Minervini avrebbe grosse perplessità dopo la retrocessione sul campo esercitata sulle nuove deleghe. Insomma, i dubbi dei democratici e l'out-out del presidente Vendola rimetterebbe tutto in discussione. Il segretario regionale Sergio Blasi ha imposto a tutti il silenzio, il clima è teso, i nodi da sciogliere sono più di uno, Il soccorso del presidente della regione, Vendola, è giunto il sindaco di Bari, Michele Emiliano, che auspica ad una ricomposizione della rottura. Il leader nazionale di Sinistra Ecologia e Libertà attende proposte chiare dal PD, ma non è disposto ad aspettare all'infinito. Ne vuole che l'azione di governo venga indebolita dai mal di paccia interni ai partiti. Se ciò dovesse accadere, Vendola potrebbe decidere di dimettersi e di restare a Roma, dove negli ultimi giorni ha partecipato attivamente alla scelta dei presidenti di Camera e Senato.